Anche a San Giovanni Tetino è tempo di rimpasto di giunta a due anni e mezzo dall'inizio del secondo mandato del sindaco Luciano Marinucci. Entra un nuovo assessore, si tratta di Esther Di Nicola, al cui vanno le deleghe ai tributi, alla semplificazione amministrativa, all'informatizzazione dell'ente, ai servizi demografici, al bilancio e all'ambiente. Nuove deleghe anche per Simona Cinosi, a cui vengono assegnate cultura, associazioni e centri di aggregazione sociale. Confermati poi gli altri incarichi con Giorgio Di Clemente che resta vice sindaco, Enzo Chiacchiaretta all'urbanistica e Roberto Ferraioli al commercio. Questa mattina nella sede di azione politica c'è stata una riunione in cui la giunta a Marinucci ha confermato l'appoggio al movimento civico guidato da Gianluca Zelli. Noi come lista civica crediamo in questo esperimento, siamo il prodotto ormai che amministra già da quasi sette anni, quindi è una delle formazioni politiche che è più vicine ai cittadini.